I numeri sono in aumento, sempre più incidenti, che si traducono in soccorsi in estate e inverno in montagna. Dati certificati dal soccorso alpine speleologico che solo un weekend fa ha fatto ben otto recuperi di persone in difficoltà sul Gran Sasso. Spesso alla base c'è una sottovalutazione del rischio, il meteo in quota non perdona e troppo spesso anche la mancanza di adeguato equipaggiamento. Così il consigliere comunale con delega alla montagna Luigi Faccia ha scritto una bella lettera al presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio. I soccorsi costano, il recupero di otto persone ad esempio si è girato sui 16 mila euro. In Abruzzo una legge regionale c'è del 2016, la 42, aggiornata al 2022 che prevede che gli interventi di soccorso e di soccorso in ambienti o stile impervio, inclusi recupero e trasporto, siano soggetti a una compartecipazione della spesa da parte dell'utente soccorso qualora non sia necessario un accertamento diagnostico o prestazioni di pronto soccorso. Una legge che c'è ma di cui manca la parte attuativa e che andrebbe aggiornata ma che invece per Faccia che si rivolge direttamente a Marsilio potrebbe evitare che persone mal equipaggiate o poco esperte possano avventurarsi con imprudenza, rischiando la loro vita ma anche quella dei soccorritori. Faccia propone anche l'installazione di una cartellonistica adeguata. Chi non va adeguatamente vestito e soprattutto chi non va su luoghi che sono alla sua capacità tecnica e fisica deve pagare le proprie conseguenze e quindi va prima sanzionato e poi magari possiamo fare la parte della informazione. Io ho proposto dei check-in dove c'è un grosso flusso di gente, c'è magari la partenza di molti sentieri, i professionisti della montagna fanno il loro check-in, vedono come sono equipaggiati, spiegano i sentieri, spiegano le norme e comunque si fa un po' di pubblicità. Grazie.